Salve ragazzi, scusate per l'attesa, sono tornato con Hellsward, oggi vi porterò il video delle 4 EVE, quindi le loro mod principali, ce l'avete già qui, e sono distorsione dello spazio, lama sonora, guardia Oberon, questa taglio letale mi sa quando verrà ricorcata forse, non ne sono certo, non mi ricordo cosa gli avevano reworkato la EVE, un attimo vado a controllare, no, questo era il rework di Hellsward, no, non hanno ancora reworkato niente a EVE, le prossime rework sono loro, allora, questi sono le 4 mod, in caso vi faccio vedere anche taglio letale, mod come è, però la sua spell principale è questa, da qui, Glamour, però in caso vi faccio vedere cosa fa taglio letale, Allora, la prima è un aiuto per il personaggio per clearare, quindi è un'ottima spell da clear, questa è ottima sia per clearare che non clearare, Questa invece è evoca Oberon e fa questo, ecco, questa serve soprattutto per clearare, questa per fare protezione KO, però mi pare che con la mod è più forte, E poi taglio letale è una cosa del genere per un mob che fa questo, anzi no, colpisce a tutti qua, cazzarola, vabbè, Ora ve le faccio vedere le mod, oh, ok, 1, 2, 3 e 4, La mod di questa va verso così, per i boss, mi pare che mi è stato detto questa qui, questa la potete fare in alto e Oberon lanciano una spell, e questa invece dà protezione KO e riduzione dei danni agli alleati, mi pare anche, giusto? No, mi ricordavo male allora, E poi abbiamo la mod di taglio letale che è simile però non tanto, però un attimo che taglio letale ve lo faccio vedere in singolo, Questo è taglio letale e questo è quello non mod, Che è simile però non la dovete usare, come avete notato si usa solo Claymore, forse più avanti mi pare che si userà, chi lo sa, Il rework è ancora non gli arrivato a questo PG, quindi yay, queste sono le 3 mod che dovete usare, Adesso passiamo alla CU, ok, la CU poverina ne ha solo una di mod, che è questa, Attacco delle sfere, e questa è così, ok? Sì, la mia prima, questa CU prima era una CBS però la switchate, e adesso è così, Questo è l'unica povera mod della ultima, della ultimate, però più, chi lo sa? Come vi ho già detto, gli rework cambiano alcune spell anche moddate, forse a lei cambierà qualcosa, Chi lo sa? Niente, ora passiamo alla CBS e poi l'ultima, Ok, passiamo alla CBS, allora, le sue due mod, penso che ne avrà altre, Come mod principali, però queste è quelle che ho visto, seguendo la gente che giocano le IV, Soprattutto questa, e altri player che la giocano, usano queste due mod, Una è questa, che evoca miriade di stelle, che non mod, ve la faccio vedere, Prima non mod, ci avete ragione ragazzi, sono un pirlò, ma ne io, è questo, Questo cosetto picchia da solo, e poi dopo potete rilasciarlo e fare questo, Invece questo qui, giga corrente, funziona per ogni funzione del personaggio, Quindi, diversi, diverse modalità, c'è, Invece con la mod miriade di stelle colpisce in automatico, No, ho sbagliato lo spell, miriade di stelle colpisce in automatico e non devi per forza cliccare il tasto, Invece giga corrente cambia da mod, da modalità a modalità, quindi vi devo far rivedere tutto, E' per varie situazioni queste qua, mi pare, una per i boss, una per i boss piccoli, Come notate, tre volte la mod più forte, come miriade di stelle più forte della mod, Va bene, queste sono le due mod della CBS, come vi ho già detto, chi lo sa, in futuro potrebbero cambiare, Grazie ai ragwork che hanno, stanno ricevendo tutti i personaggi, E adesso passiamo all'ultima classe, Allora, passiamo alla CBS, Prima di tutto, Mettiamoci il buff del personaggio, perché se no è brutto, Le mod principali sono, Pugno del cielo caduta, Sentiero delle marcerie, E rabbit, rabbit è questo, Che colpisce in tanti modi, Il pugno del cielo è questo, E poi questa è la mega trivellona, Che mi pare che era la skill principale, Della classe, giusto? Si, Allora, Passiamo alle mod, Io l'ho provicchiata questa, Allora, rabbit serve per colpire, penso, i boss più grandi, E queste due sono da clear, E bene si, Quindi vedrete, Si, sentirete le marciare, Fare più danno della non mod, Ma perché è per clearare, E più mob ci sono, Più danni fa, I personaggi, Ok? Ok? E niente, Questa è la eave, Tutte e tre, le quattro, le classi, le mod, Non so se, Sulle altre, Ora passeremo ai Chang, Che sarà divertente, E niente, Ci vediamo con i Chang, Al prossimo video, Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, Ciao ragazzi, Ciao ragazzi, Ciao ragazzi, Grazie a tutti.